Questa è l'edizione del 2018 per quanto riguarda i comuni ricicloni, come stiamo messi? C'è un miglioramento? Sono 11 comuni in più che passano il traguardo del 65%, sono 238 in tutto in campagna i comuni ricicloni. Bisogna ripartire da questi, bisogna moltiplicare le buone pratiche, ma per farlo c'è bisogno di una governanza autorevole, c'è bisogno della politica che si metta a capo di un processo per andare oltre le leggi necessarie, ma per applicarle queste leggi. Allora c'è bisogno di far ripartire gli enti d'ambito per mettere in campo soluzioni collegiali attraverso i sindaci e gli enti comunali, ma anche attraverso la partecipazione delle comunità. E lo ribadiamo, gli impianti che servono sono gli impianti di compostaggio, gli impianti che trattano la frazione organica e non gli impianti di incenerimento. E non serve alla campagna nemmeno la quarta linea della cerra, se la risposta della politica regionale al duello nazionale è quella della quarta linea, continuiamo a far salire lo spread dei rifiuti e quindi a creare caos nel ciclo dei rifiuti e a vincere sono sempre l'illegalità e dall'altra parte lo scorroggiamento di tante comunità che in questi anni hanno creduto nella raccolta differenziata. Mi verrebbe da dire, per fortuna che ci sono i comuni, la regione è assente. Esatto, diciamo che per fortuna che ci sono i comuni che resistono, che hanno una percentuale importante e che resistono, ma oggi c'è bisogno anche che quei comuni si diano un urlo verso la regione per dire andiamo tutti insieme per far diventare, per partire già una performance importante, siamo a 52% come performance regionale, rendiamola solida, non facciamo sì che una crisi sempre paventata dietro l'angolo faccia fibrillare, faccia diventare la campagna pure palcoscenico di duelli politici, non è giusto. Certamente, l'anno scorso eravamo secondi, eravamo terzi con il 66%, quest'anno siamo passati al secondo posto con il 7,75%. Un grazie a tutti i cittadini che sono impegnati con passione per raggiungere questo risultato. C'è un aspetto, non la invidio come assessore all'ambiente perché noi praticamente abbiamo il calendario di quello che succederà da qui ai prossimi mesi il termovalorizzatore, insomma veramente siamo su caratteri di emergenzialità. Cercheremo di far fronte a queste emergenze, proprio in questo momento al Comune ci stanno riunioni con tutti gli organi impegnati, tutte le persone impegnate su questo fronte, dobbiamo fare in modo, ripeto, c'è bisogno dell'impegno di tutti, dobbiamo fare in modo che questa parte indifferenziata, questo rifiuto, diminuisca sempre di più e quindi la parte nobile, quindi sempre maggiori, quindi in modo da anche un ristoro dal punto di vista economico. Avete immaginato anche però tra amministrazioni di consorziarvi un aiuto reciproco per poter trovare dei siti magari extra comunali, perché qui l'Unione fa la forza anche nelle decisioni regionali. Il problema è che quando vengono meno dei siti cosiddetti pubblici, tipo lo sito di Battipaglia, siamo gioco forza costretti a rivolgerci ai privati. I privati stanno applicando ora delle tariffe proprio proibitive, parliamo di 250 euro a tonnellate per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, quindi dobbiamo, ripeto, l'unica possibilità che abbiamo tutti insieme è quella di ridurre al massimo i rifiuti indifferenziati. Però, sessore, non voglio insistere, facendo sistema si può contrattare meglio con i privati. E' una cosa importante, abbiamo più forza contrattuale con i privati, cerchiamo di fare anche questo. Grazie a tutti.